Turcalabrese ieri per il ministro Andrea Riccardi a sostegno della lista Monti, che ha lanciato il credo del rinnovamento per la classe politica regionale. In Calabria al Senato la lista del professore, secondo gli ultimi sondaggi, viaggia oltre il 17% e le novità sono i volti dell'imprenditore Giuseppe Panarello in lista con Monti alla Camera, il consigliere comunale Gianfranco Spinelli e Katia Stancato. Scelta civica non si candida per fare da stampella al PDO o al PDL, ha precisato il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. La nostra vocazione è maggioritaria e ci candidiamo per chiedere il consenso dei cittadini a guidare l'Italia. Il centro è col PDL alla regione, ma io credo che la vocazione del centro non sia essere con. Il centro oggi è in una nuova fase storica e la fase storica è quella del superamento dell'immobilità in mezzo alla tenaglia. Il centro oggi sta diventando riformista, questo è il discorso di Mario Monti, perché in Calabria si vede come non servono aiutini, non serve una politica assistenziale, ma in Calabria servono riforme. Questo è il punto decisivo, cioè ci vuole una politica che sia moderata nei linguaggi, ma decisa e incisiva nell'azione. Le tasse che il governo Monti ha dovuto imporre, ha spiegato Riccardi, sono state la conseguenza dei buchi trovati e sono servite per onorare gli impegni con l'Europa che altri governi avevano preso come il pareggio di bilancio. Io credo che qualunque governo ci fosse stato al posto nostro, Berlusconi o altri, avrebbe dovuto imporre quelle tasse e forse anche di più. Ma sul tavolo calabrese oggi c'è la situazione degli scavi di Sibari, sulla quale Riccardi non ha lesinato elogi per il patrimonio da tutelare e per la ricchezza della Calabria costituite da archeologia, paesaggio, turismo e storia. Piccata la risposta di Mario Caligiuri, che ha ricordato i finanziamenti prontamente messi in campo dalla Regione e dal governo di cui Riccardi fa parte. Proprio ieri, infatti, l'assessore alla cultura aveva ricordato che il ministro Barca aveva annunciato gli interventi programmati dal Ministero della Coesione insieme alla Regione Calabria per 21 milioni di euro da aggiungere a quelli che verranno attuati direttamente dalla sovraintendenza dei beni culturali.